Ci siamo incontrati alla vigilia di questo campionato, dopo le prime giornate possiamo fare un bilancio? Sicuramente sì, come dissi a inizio campionato, che ce la saremmo giocato su tutti i campi, oggi fortunatamente la squadra è in continua crescita. Settimana dopo settimana stiamo cercando e abbiamo trovato una nostra identità, poi le partite le possiamo vincere o perdere, però la squadra ha cattiveria, approccio giusto, mentalità giusta, i ragazzi crescono settimana dopo settimana, il lavoro che proponiamo lo stanno assimilando bene. Onestamente sono molto soddisfatto e orgoglioso di questi ragazzi, ma per l'approccio che ci mettono, la voglia nel lavorare, la voglia di apprendere, è una squadra che ci ha fame, e questo penso che sia un po' anche un nostro punto di forza. Quali sono gli aspetti invece su cui deve lavorare maggiormente la squadra? Io sono, purtroppo caratterialmente sono un pignolo, quindi non mi accontento diciamo mai, nel senso che cerco sempre di tirar fuori dai ragazzi tutto quello che hanno, quindi il migliorare, il cercare di trovare i particolari, ciò che sono poi, secondo me, quelli che fanno la differenza. Sono un po' ripetitivo nelle cose, ma perché cerco di trovare un po' di perfezione, cercando di trovare un po' di migliorare soprattutto i difetti che i ragazzi hanno. Stiamo cercando di fare tanto lavoro specifico anche sui singoli ruoli, dove abbiamo un po' di carenze, e ribadisco, l'aspetto più bello è la disponibilità dei ragazzi, e soprattutto la crescita che si vede settimana dopo settimana. Per quel che riguarda invece gli obiettivi, da qui a fine campionato? Ma non mi piace porre obiettivi, nel senso che per me un obiettivo principale è quello di lavorare settimana dopo settimana, cercare di migliorare quello che stiamo facendo, poi quando sarà verso marzo guarderemo un pochino la classifica, se avremo meritato di stare un pochino lassù e di giocarci qualcosa, benvenga. Ma l'obiettivo principale è quello di formare questi ragazzi, per me la formazione è di fondamentale importanza. La soddisfazione più bella, oltre a quelle di squadra, deve essere quello da qua a qualche anno di poter regalare a questi ragazzi un sogno, e soprattutto alla società che comunque fa dei sacrifici non indifferenti, dare qualche ragazza per poter ambire a fare la sede bio, o magari chissà in ottica prima squadra. Quindi l'aspetto più importante di un settore giovanile deve essere questo. Poi è normale che se i risultati positivi da squadra vengono, aiutano perché aiutano a far lavorare bene la squadra, c'è entusiasmo, ma sono convinto che, come ho detto tempo fa, con questo atteggiamento qua ogni settimana potremmo dire comunque la nostra. Il capitano è sempre quello che mette la faccia e soprattutto crea il gruppo. Parliamo proprio del gruppo. Che gruppo siete? Quest'anno è un gruppo molto compatto rispetto agli altri anni, dove abbiamo trovato molte difficoltà a creare il gruppo. Quest'anno, devo dire, subito dall'inizio abbiamo avuto un buon impatto tutti quanti, infatti ci stiamo trovando molto bene tutti insieme. Gli obiettivi che vi state ponendo nel corso della settimana, nel corso del campionato con il mister Ferraro? Quello di fare sempre meglio ogni settimana. Come obiettivi per la nostra squadra, credo raggiungere i play-off, sarebbe perfetto. A telecamera è spento, hai sentito che tu avevi un sogno. Qual è? Quello di segnare sotto la sud un giorno e anche di ambire in serie a giocare in prima squadra. In bocca al lupo. Crepi.